Partita! Anche questa seconda mèche! Capito! Molto! Colmato si sta riprendendo lo scettro del primo metro, poi alla fine saranno i tempi, sarà la somma dei tempi. Il finalista crediamo! un'arrivo di buono che la moto sta avertendo il modello di Svastra e il passaggio di Svastra è un arrendativo Cielo per il segno di grande è un'arrivo di Ciega davvero dei deliziotti traversi il visuro traceto milanese di Rosso Cristiano e alla chiusura del giro colpato di nuovo sotto la cane ma l'impressione che ne ero buttosi davanti l'impressione che ne ero buttosi davanti siamo all'ultimo il giro il giro il giro il giro